Una convenzione tra il Ministero della Difesa e Confindustria Chieti-Pescara per la ricollocazione dei volontari congedati è stata firmata questa mattina. Il progetto si chiama Sbocchi Occupazionali. I dati dei volontari in cerca di occupazione confluiranno in un database nazionale denominato SIL Difesa, Sistema Informativo Lavoro Difesa, visionabile dalle aziende accreditate, che rende possibile così l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Noi abbiamo una sezione che si occupa proprio dell'orientamento di queste persone, dei ragazzi, corsi di formazione e quindi abbiamo un database dove ci sono tutti i profili di tutti i militari, in Abruzzo ne abbiamo circa 200, dove le varie aziende di Confindustria, in questo caso Chieti-Pescara, che si accrediteranno, potranno trovare il profilo che più interessa. Che è un ulteriore strumento che servirà alle nostre aziende associate per poter reperire personale qualificato in una banca dati che contiene congedanti e congedati di personale militare e quindi favorire questo incontro.